Serigliano, Donati, eventualmente anche Donadè, chiaro che Vecchiel è quello un po' così, un giovane per un giovane, quindi chiedo che la linea sia chiara, però c'è Massimo che ha fatto bene tante volte in quello lì, lo stesso Donadè può giocare e poi ricoprire quel ruolo, adesso vediamo, perché comunque manca ancora un po' alla fine di questo mercato, quindi non so quello che possa succedere o cambiare ancora, vediamo, no, mai, però è chiaro che una reazione ci deve essere per forza, poi insomma è stato un giocatore importante, grande carisma, ho letto, vedevo prima la sua intervista, prima di venire qui su Sky, piacciono in persona i principi che vorrebbe portare e poi adesso insomma i giocatori sono i primi a dover dare un segnale, quindi sicuramente ci aspetta una partita molto, molto dura e difficile, però anche bella da giocare. Sicuramente molte volte è capitato, perché qualcuno c'è stato, io sono un po' più di esperienza, io ho dovuto fare un po' di più di più degli altri, però ogni storia è un caso a sé, non lo so quello che sarà, poi i risultati a dire se le scelte sono state giuste, lui ha sicuramente esperienze importanti, che conosce, conosce l'ambiente Milan, quindi tanti aspetti che conosce, non è che parte proprio così, però poi come anche detto in conferenza, ho detto prima, ho visto prima, adesso dipende molto anche dei giocatori, insomma veramente dare di più di quello che è stato fino adesso. Grazie. Grazie.